La mia ultima esperienza giù è stata a Pesaro, in cui mi sono trovato molto bene, in cui abbiamo disputato sicuramente due ottime stagioni e quindi sono contento. Adesso ho questa possibilità di venire ad Avellino, ho parlato con il coach Sacripanti, sono rimasto molto contento, soprattutto perché mi ha detto anche dai giocatori che voleva riconfermare da cui ripartire e quindi tutte queste piccole cose mi hanno aiutato a scegliere Avellino. Sì, sicuramente. La cosa importante è che questi giorni iniziamo a lavorare assieme, adesso è anche appena arrivato Joe e sicuramente non siamo ancora tutti e questo non ci aiuta a avere continuità nel lavoro. Però ti dico, sicuramente abbiamo diversi giocatori con esperienza, giocatori che sanno cosa serve in campo per poter vincere le partite e questo sarà importante da far capire soprattutto ai rookie che saranno nuovi di questo campionato. Marco, tanti ex canturini in questa squadra ai quali si aggiunge un altro ex canturino, anche se non ho mai giocato con te, che è Fesenko, una bella batteria di lunghi. Sì, sicuramente. Lui è un giocatore importante, un giocatore grosso, un giocatore di stazza, un giocatore che in mezzo all'aria potrà far molto male. Speriamo che non mi faccia del male anche a me perché è enorme, sarà il doppio mio. Io ti dico, sicuramente sono contento però perché comunque è un giocatore importante, un giocatore che può portare tante energie all'interno della squadra, è un giocatore che potrà essere molto utile a questa squadra per vincere le partite.